Settimana scorsa, 32 guerrieri hanno combattuto per il titolo di Maron Naro. Anche questa settimana una nuova edizione del torneo deciderà un nuovo campione. Quando i campioni saranno 8, ci sarà un torneo finale che deciderà il vero discepolo della Maron. Chi sarà uscire vincitore questa puntata? Il suo sguardo è rivolto verso di noi. È il momento di mostrarle la nostra devozione al Maron Tournament. Salve ragazzi, sono Kerenis e benvenuti in questo nuovo appuntamento con il Maron Tournament. Con me c'è Lello. Buonasera amici e amiche sportive. Diamo subito un'occhiata alle stat di Vai, che è contro Vladimir, un match up piuttosto difficile. Notate i suoi AP. Mmm, avrà delle maestri orure sbagliate o è semplicemente... fatto così? È scherzo. Con i sondaggi che abbiamo inserito in questa puntata potete scegliere in ogni scontro quale sarà il champion che secondo voi vincerà. Ovviamente non si vince nulla, è soltanto per vedere un po' chi è il champion più quotato. In questo match personalmente voterei per... non lo so in realtà per Vladimir, perché cioè comunque può farmare meglio, c'è il sustaino. E vai, pure se gli salta addosso con la ultimate lui si squaglia a terra con la pozza, quindi... non lo so, secondo me è stato un po' sfortunato quel ragazzo. Beh, ricordiamo che al Maron Tournament i champion sono scelti casualmente, quindi nessuno ha scelto il suo match up. Ricordiamo inoltre che il torneo è accessibile a tutti e gratuito, a fine video spiegheremo come iscriversi al prossimo torneo. Vediamo un po' il farm... beh, Vladimir ovviamente. Attenzione, l'ingaggio da parte di Vai. Un log! Un piccolo trade, non male, hanno perso entrambi quasi metà vita, più o meno è piuttosto bilanciato come trade. Non è male. Sicuramente Vai dovrà puntare sulla kill, perché sul farm mi sa che Vladimir è molto più avvantaggiato. Anche se la vedo dura, in ogni caso. Attenzione, vai, prova di nuovo un altro ingaggio in mezzo a troppi minion e ha missato anche un altro attacco. Sta perdendo troppo tempo in mezzo ai minion che la stanno distruggendo e finisce qui. Ci ha provato. Eh, mi dispiace, amica. Passiamo subito al prossimo match, perché questo è già finito. Ah, Lello, devo parlarti di una cosa. Un attimo. Restano altri 16 giocatori. Ed eccoci qui con il secondo match, Sona contro Riven. Dato che nei commenti molte persone si sono lamentate della voce di Lello, abbiamo deciso di scegliere vari ospiti presi da tutto il mondo. Attori famosi, grandissimi interpreti, insomma. Gente di fama internazionale. Dato che per alcune persone sarebbe meglio se ci fosse soltanto una voce alla telecronaca, ossia la mia, ho deciso che questa partita non avrà alcun ospite a castare insieme a me. Così esamineremo tutte le possibilità e sceglieremo insieme qual è la versione migliore per questa serie. Dato che dovranno esserci, oltre questo, altre 6 partite, altri 6 tornei. Ogni torneo ha il suo vincitore. Ad esempio, Addie Gary ha vinto il torneo scorso, per chi non l'avesse visto, andate a guardarlo. Quando avremo trovato altri 7 vincitori, come Addie Gary, ci sarà un torneo finale con tutti gli sfidanti. In un torneo dove non ci saranno champion scelti a caso, ma sarà un 1 v 1 fatto seriamente, con dei premi diversi. Metteremo qualche Riot Point, Paio, un po' di figa, non lo so. In ogni caso si vincerà il titolo. E quella è la cosa più importante. Non siete d'accordo? Lo facciamo per la Maronne, dopo tutto. Ma pensiamo al game adesso. Squarkle contro Ryder 51. Zona contro Riven. Se non avete votato, votate per questo scontro. Personalmente, penso che sia Riven a vincere questo fight. Cioè, Zona è molto, molto squishy. Ha forse un vantaggio sul farm, ma nemmeno tanto, perché Riven ha la sua E che può proteggerla dalla Q di Zona. Magari non in questo livello. In ogni caso, Zona avrà un po' più di difficoltà a farmare con gli out attacchi. Riven ha un farm piuttosto semplice. Mentre a livello 6, basta un flash ulti di Riven e Zona scoppia praticamente. La sua ulti non riuscirà a difenderla abbastanza, ma non è detto. Perché se questo scontro dovesse portarsi per le lunghe, Zona potrà buildarsi molto più danno a distanza. Potrà giocare più safe. Siamo a quasi 5 minuti di game e la differenza di farm è evidente. Zona sta vincendo, ma Riven potrà saltarle addosso e shottarla. Mi sa che è l'unico modo che ha per vincere. Ecco finalmente il primo ingaggio di Riven. Non male come trade, se consideriamo il fatto che a breve Riven farà il livello 6. Di certo se Zona avrà già metà vita persa o almeno un po' di HP persi, Riven avrà molte più possibilità di shottarla con la sua ultimate. Passato del tempo dal livello 6, Riven non ha ingaggiato contro Zona. Piuttosto è tornata in base per comprare qualche item nuovo. Che cosa comprerà? Che cosa comprerà? Non perdere tempo perché Zona nel frattempo non è tornata in base ma sta farmando ancora. Forse sta aspettando qualche soldo? Comunque Riven ci mette ancora un po' di tempo. Ok, ha comprato una mangia magie. Zona è tornata in base ed ha comprato il primo item per costruire una zonia e biscotti per restare comunque in vita. Riven invece ha comprato soltanto la mangia magie. Diciamo che a farm e item Zona sembra essere in vantaggio contro Riven. Ma io continuo ad aspettare un ingaggio improvviso di Riven con la sua ultimate. In quel caso la vittoria secondo me è piuttosto facile. Zona se la sta giocando molto bene perché sta giocando sul farm ma ogni tanto butta comunque dei piccoli poke sul Riven che lentamente non avendo molto sustain soffre. Purtroppo Riven sbaglia a provare a farmare tanto ormai la differenza di farm è immensa. O ingaggio per combattere o niente. Resta poco tempo Riven o ingaggi ora o mai più. Ecco appunto Riven salta con la sua ultimate. Si deciderà qui il vincitore, lo stun di zona, exos e barrier. Zona è ben protetta, fa molti danni, non ha molta vita e Riven scappa. Ma non ce l'ha fatta. Voleva fuggire ma qualche altro attacco secondo me e avrebbe vinto. Altri 8 sono stati eliminati. Il torneo continua, si sono disputate ben 12 partite e 14 persone ci hanno lasciato. A castare con me stavolta c'è un grandissimo youtuber, il canale in descrizione, Becienz. Grazie voglio grazie, il canale in descrizione se mi vorrete iscrivere al mio canale faccio doppiaggi, canzoni, tutta roba trash, capi cose così. Scusatemi se parla un po' in questo modo ma non so un italiano come voi. Ma figurati Becienz per parlare come ti pare. Spalle al muro, si mette a suonare il flauto. Questo è proprio uno Yasuo Main. Guarda come, guarda la giapponinchiacina di questo personaggio come fuoriesce dal contesto. I minion ci mettono un po' ad arrivare ma la partita sta per iniziare. Wow che palle, la velocizza, la velocizza. Ferma, aspetta, è iniziata. È iniziata. Wow, c'è un giusto, cazzo. Scommettetene il sondaggio il vincitore. Secondo me, questo match non so proprio decidere un vincitore in realtà. Perché Yasuo è avvantaggiato nel farm, Sivir invece è avvantaggiata nella distanza. Yasuo può scattare su di lei e fare dei trade e poi scappare via con il vento. D'altro canto, Sivir può bloccare i suoi tornati di Q con la sua spell che le rigenera il mana. Ma non possiamo zompare direttamente a 5 minuti dopo che sinceramente mi sono un po' scassato il cazzo. Se è possibile. Tanto penso che è pure il pubblico. Cioè, vedete questi due che si mettono a fare i minion, sinceramente. Comunque è un 1v1 dove conta qualsiasi azione. Ogni errore può costare caro. E il farm è molto importante perché a 100 minion si può vincere il game anche se non si killa l'avversario. Vabbò, 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 vabbò. Ma dai, è saltato di 5 minuti il game. Siamo già a 5 minuti. Vabbè, recuperiamo. Allora, Sivir e Yasuo hanno più o meno lo stesso farm. Il che è abbastanza... No, a pollo. È molto combattuta. Ecco Yasuo che salta addosso a Sivir con la sua E. E il trader non è stato... Perché cazzo... Ua, sta proprio tutto ambreato questo E. Yasuo, darvi più. Vabbè, Sivir non ha usato il barrier. Yasuo non ha usato nessuna summoner. Si è allontanato. Continua ad allontanarsi? Vabbè, evidentemente vuole ricollare sicuro. Anche Sivir sta per tornare in base. E no, invece resta in lane per recuperare il vantaggio in minion. Ottima idea, ma Yasuo tornerà più forte. Per questo dovrà tornare anche lei. Vediamo un po', Yasuo, che cosa ha comprato. Ma che bello! Un po' a lista della spesa. Scarpe, critico, attack speed e una pozione. Bravo, io come do di che sta a tempriare questo cazzo. Non sa, ma anche lui che sta facendo. Sivir è tornata in base e ha comprato una MC spada. O BF sword in inglese. Wow. Yasuo però ha recuperato il farm. Ora sono a 39 minion entrambi. Chissà come finirà questo sconto. Boh. Secondo me frenesce che mi ha fatto con la roba sta che l'hanno fatto. Yasuo scatta sui minion. Osa ha un piccolo trade. La colpisce. Il vento purtroppo lo ha fatto troppo tardi. E si è preso un bel po' di danni. Il farm comincia ad essere un problema per Yasuo. E sembra che dovrà per forza ingaggiarla ed ucciderla. Sembra intenzionata a colpirla. Pusha un po' tanto. Ecco che le salta appunto addosso. Il vento sfregato. Sivir continua a picchiarlo, ma non lo uccide. Quei trade in me. Cosa farà Yasuo? Ok. Sembra che sta per tornare in base. Beh Yasuo. Tornerai in base e ti curerai. Comprerai qualcosa. Ma il farm di Sivir sta crescendo un po' troppo. Ma che è? Ma che è? Ma sono tu in braga. Secondo me pensavo di essere già in base e essere morto. Non ho anche pigliato quei minion. Eppure molto. Oh buono. Non fa niente. Ciao aiuto apposta. Va bene. Va bene. Passiamo al prossimo mesh. Dai. Via con la semifinale. Salve a tutti ragazzi. Siamo in semifinale. Come c'è Takeshi. Un grandissimo caster di League of Legends Giappone. Che probabilmente non conoscerete. Mi piace. E' le Velcoz di Conoscere Italia. Appunto. Velcoz contro Eni. Uno scontro fra due mid laner. Non sembra manco una partita totalmente casuale. Eni ha vantaggio. Go farm. Q cooldown. Refresh. E mana refondo. Esatto. Il cooldown abbassato. Il risarcimento del mana delle Q di Eni. E' un vero problema per Velcoz. Dato che è avvantaggiata nel farm. Nel puck. Ed ha anche un cc più semplice da hittare. Velcoz ha solo skillshot. Votate per questo match. Io penso che vincerà Eni. Dato che è un noob jump contro un Velcoz. Che non potrà mai vincere a farm. Ecco appunto. Il trade fra loro due. Sembra averlo vinto Eni. Ma come fight non se ne è camata male Velcoz. La lotta per il carretto. Entrambi lo prendono. Velcoz riesce a hittare Eni con la sua Q. Colpisce Eni con la sua V. Guardate come la passiva di Velcoz sta per scoppiare. E scoppia. Al terzo hit di un'abilità di Velcoz. La passiva si attiva. Infliggendo danni puri. Proprio così signor Takeshi. Il farm di Velcoz è più basso di quello di Eni. Giustamente a mio parere. I due avversari sono molto vicini. Attenzione. Non siamo a livello 6. Ma c'è comunque tensione fra i due rivali. La E di Velcoz. Il barrier e il flash di Eni. Povero Velcoz ce l'aveva quasi fatta. Ma adesso diventa ancora più difficile. Eni compra più danno magico. Velcoz invece. Un'altra Doran Ring. E altre resistenze. A farm per ora. Sembra vincere Eni. Bravo Velcoz che nonostante tutto. Riesce a prendere gli skillshot su Eni attraverso i minion. Pocca anche con gli autoattacchi. Eni sta perdendo un po' di HP. Ma ha quasi raggiunto il livello 6. E il Tibbers con lo stun è veramente letale. Assurdi danni della full combo di Velcoz. Nonostante abbia soltanto due Doran. Uno scontro bilanciato ed emozionante. Quasi quanto una finale. Guardate come Velcoz cerca di approfittare dell'assenza di minion. Per prendere qualche spell. Mentre Eni si tiene comunque sul vantaggio col suo farm. Attenzione. Velcoz riesce a prendere Eni con lo stun. Ma Eni attiva il suo Tibbers. Evitando una ulti potentissima di Velcoz nei denti. Eni è riuscito a fare in qualche secondo. Ciò che Velcoz ha sudato per un paio di minuti. Se non altro. Eni ha sotto Tibbers. Velcoz non ha ancora ultato. Passati un paio di minuti dall'ultima azione. Eni ha decisamente più farm di Velcoz. E sembra stia per vincere proprio per questo. Velcoz quindi ha pochissimo tempo. Deve ammazzare Eni prima che Eni raggiunga i 100 minion. Ma non deve comunque abbassare la guardia. Perché Eni ha di nuovo il suo Tibbers pronto. La situazione è molto tesa. Velcoz si avvicina ad Eni. Riesce a prendere la sua Q. La E sotto i piedi. Parte finalmente l'ulti di Velcoz. Ma Eni si fa i danni col barrier. Barrier anche di Velcoz. Che riesce a fuggire dal Tibbers. Non ancora. Entrambi sono quasi senza vita. E senza summoner. Nonostante la dura battaglia di Velcoz. Sembra essere arrivato a un triste finale. Il mana di Velcoz è praticamente finito. E lui sta buttando letteralmente le sue sperme. Velcoz. L'importante è che non butti. Ecco appunto. Ha buttato l'altro mana. Ormai Eni ha la vittoria in pugno. Che riesce a prendere. Complimenti a entrambi. Eni è in finale. La finale. Widogami la Sivir di prima. È riuscita ad arrivare in finale. Stavolta contro Sindra. Kira. Ossia la Eni di prima. Vi ricordiamo che la finale non è fatta con Champion casuali. Ma con Champion a scelta. E con i ban. Quindi Pantheon sembra essere una scelta piuttosto versatile. Il suo scuso di passiva può aiutarlo nei trade. Ma resta comunque un Champion corpo a corpo. Anche se il suo stun ravvicinato e la sua Q sono molto potenti. Sindra d'altro canto ha un burst meno rischioso. E soprattutto a livello 6 ha una ulti che può usare in corsia. Ma salutate il nostro ospite che sicuramente conoscete. Direttamente dallo Stalker. Un video uscito a novembre che potete andare a cercare sul mio canale. Franky Tielo. Yo nooo. Asami. Anche se Franky Tielo non capisce un cazzo di loro. Ma ora l'abbiamo invitato comunque a partecipare a questo torneo. Franky. Secondo te chi vincerà fra Sindra e Pantheon? Man. What do you mean? Lascia stare. Secondo me questo scontro lo vincerà Sindra. A livello 6. Con una full combo e la sua ultimate. Magari poccando durante tutta la fase di corsia. Pantheon può cavarsene in ogni caso. Ma secondo me è stato un po' troppo rischioso come scelta. Passano i minuti e Pantheon riesce comunque a tenere testa nel farm che grazie alla passiva della sua E critta i minion che stanno per morire. Sindra dovrebbe poccare un po' di più e un po' meglio. L'ingaggio di Pantheon salta su Sindra. Sindra sta sprecando un po' mana e vita. Non riesce ad usare al meglio tutte le sue abilità. Dovrebbe indebolire Pantheon lentamente per poi finirlo definitivamente a livello 6. Guardate come un piccolo vantaggio di Pantheon riesce a mettere pressione al proprio avversario. Questo succede anche in top lane. Mai dare spazio a Pantheon. Perché se prende confidenza non riuscirete più a fermarlo prima del bet. Che cazzo l'abbiamo invitato a fare a questo? Le pozioni di Sindra hanno dato sicuramente una mano a recuperare gli HP. E infatti Pantheon non fa più il bulletto come prima. Guardate come una spell hittata da Sindra è pericolosa per Pantheon. Manca solo un livello. Basterebbe una full combo per ucciderlo ormai. Avendo una spell autotarget Pantheon nei primi due livelli è veramente fatale. Ma a livello 6 perde un po' perché il suo avversario guadagna una ultimate. Lui invece ha una ultimate inutilizzabile in mid lane. E retrocede. Vuole andare in base e vuole semplicemente farmare sottoturre. Ok, Sindra sta recollando. Pantheon invece sta recuperando un po' di minion. Sindra compra una clott armor e equilibrio per aumentare il mana. È abbastanza utile così può farmare e poccare di più. Pantheon invece ha recuperato il farm di Sindra. Sembra per nulla intenzionata a tornare in base. Questo potrebbe essere un problema perché Sindra è quasi livello 6. Ha degli item nuovi. È comunque lo stesso farm di Pantheon. Quindi quando lui andrà in base perché dovrà andarci prima o poi. Lei riprenderà a farmare. E con tutto il mana che ha potrà benissimo farmare con le spell. Appunto. Pantheon ha fatto il livello 6 e sta tornando in base. Il farm di Sindra cresce e Pantheon ha comprato una mangiamagia. Sempre utile quando si è a D contro a P. Attenzione. Pantheon salta. La prenderà in pieno? La prende in pieno probabilmente. Sì. Salta addosso. Exhaust. La prende con tutte le spell. Sindra prova a ribattere. Ma con l'exhaust non le ha tolto praticamente nulla. Continua a inseguirlo sbagliando. Il barrier. Perché continua a inseguirlo? Pantheon si gira e finisce Sindra. Non ha nemmeno provato ad ultare. Giustamente non ne ha avuto la possibilità. Pantheon è il campione di questa edizione del torneo. Widogami. Complimenti. Tu e Adi Carry. Siete i primi due aspiranti maronnani. Ah sì. Ciao Frankie. Il secondo torneo si conclude qui ragazzi. Se volete partecipare al prossimo sappiate che chiunque può farlo. È gratuito. Basta soltanto cliccare nel link in descrizione per iscrivervi al Tumblr Crash. Settimana prossima di lunedì o martedì creerò il torneo. Voi su Tumblr Crash potrete andarvi a registrare. Nel frattempo provate il sito. Lì potrete fare delle 1v1 e allenarvi con altre persone. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto e cosa pensate si debba migliorare. Ciao ragazzi. E al prossimo torneo.